Antonio Maiorano è il nuovo questore dell'Aquila. Qual è stata la prima impressione? La mia impressione è stata quella, insomma, perché mi sono fatto un giretto ieri pomeriggio quando sono arrivato, quella che può capire benissimo una persona che viene e trova questa città in ricostruzione, quindi ripercorrere quel dramma che è stato vissuto da questa popolazione. Quindi, pensando a questo, un ulteriore, un rafforzato, se è possibile, impegno per cercare di rendere il nostro bene, che dobbiamo assicurare, che è la sicurezza, un bene primario per gli abruzzesi e in particolare per gli aquilani. Che cosa si porta in questo incarico dell'esperienza fatta su tutto il paese? Il rispetto per tutti e la volontà di continuare a combattere ogni forma di devianza criminale. Avendo la fortuna di fare un mestiere che dà la possibilità di agire nel sociale, la consapevolezza che ad Aquila si può fare questo mestiere di poliziotto con un particolare riguardo alla socialità.